Decisioni diverse del Tribunale del Riesame per i tre riesini al centro dell'inchiesta dei Carabinieri che aveva portato alla scoperta di una maxi piantagione da 10.000 piante di marijuana nelle campagne di Butera. I giudici hanno annullato l'ordinanza di custodia cautelare per Salvatore Cutaia, 54 anni, accusato di associazione finalizzata allo spaccio e singoli episodi di spaccio. Cutaia è dunque tornato libero mentre resterà in carcere Giovanni Lonobile, 32 anni, che si è visto annullare l'accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio ma non quella relativa ai singoli episodi sempre di spaccio di stupefacenti. Passa dal carcere ai domiciliari invece Giuseppe Alessandro Lamarca, 32 anni, a cui i giudici hanno annullato l'accusa relativa al reato associativo ma non quella di spaccio semplice. A proporre il ricorso per chiedere l'annullamento dell'ordinanza erano stati gli avvocati difensori Vincenzo Vitello, legale di Lamarca, e Carmelo Terranova che assiste Cutaia e Lonobile. In totale sono 11 le persone indagate, molte delle quali originarie della provincia di Palermo, a conferma di un interesse comune nel campo degli stupefacenti tra esponenti della criminalità del capoluogo regionale con quelli del sud della provincia nissena.